In questo mondo, io non ho avuto tanto, eppure sono contento, sono contento. Oh mio signore, io ti ringrazio di ogni cosa che ho avuto, grazie per tutto quello che tu hai fatto per te. Per me, però se questa sera posso farti una preghiera, ma che domani, ma che domani lei ritorni da te. Ah, che domani lei ritorni da me. Grazie.